Mi chiamo Marilena, sono un'infermiera, lavoro a Torino in una rianimazione e sto partendo per la quarta volta per l'Afghanistan e sto per andare alla Scarga. Alla Scarga Emergency è un ospedale con 65 posti letto, 3 sale operatorie, aperto 24 ore su 24. La quarta volta che sto partendo mi rendo conto che ciò che mi stimola ancora di più a partire è proprio il microcosmo che si crea all'interno dell'ospedale di Emergency. All'interno degli ospedali di Emergency non si cura soltanto, ma attraverso un modello di cura, un modello di lavoro che tentiamo di trasmettere a persone locale, si trasmettono quei valori come il diritto alla salute, l'uguaglianza tra le persone che sono fondamentali per la nostra medicina e che lo dovrebbero essere anche per la loro. Grazie a tutti!